Dopo le numerose iniziative culturali, questa volta a Palazzo dell'Emiciclo andranno in scena gli chef stellati abruzzesi. Non è la prima volta che la sede dell'Assemblea regionale presta le sue strutture per una serata di beneficenza ed anche per questo evento il ricavato avrà finalità sociali e sarà devoluto alla Olus Aquilana l'Aquila per i più piccoli. Questa mattina la presentazione dell'evento che si terrà lunedì 5 agosto e che ha ricevuto il patrocinio del Consiglio regionale, del Comune dell'Aquila e del nono reggimento degli Alpini. Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha rinnovato la disponibilità di Palazzo dell'Emiciclo ad ospitare eventi di natura sociale. Alcune delle nostre eccellenze enogastronomiche mettono al servizio anni e anni di studi, ricerche e sacrifici per una raccolta fondi benefica, devo dire ogni anno puntualmente consegnata e noi siamo qui solo per sottolineare con le strutture del Consiglio regionale, con gli spazi che metteremo a disposizione di coloro che vorranno partecipare, la gratitudine del Consiglio regionale che ospita con grande piacere questa iniziativa. Nel merito della serata è entrato lo chef William Zonfa, promotore e organizzatore dell'iniziativa. La cena prevede sempre ed esclusivamente un tetto massimo di 100 coperti, dove il tutto verrà devoluto all'Aquila per i più piccoli. Una onlus che collabora con l'ospedale dell'Aquila, che dà la possibilità ai bambini prematuri di avere vicino sempre i genitori, anche se non ne hanno le possibilità. Le prenotazioni si possono fare chiamando il numero che è sulla locandina, quindi 0862 414983, che è il numero del Magione Papale, oppure mandando una prenotazione tramite mail a info.chioccia.magionepapale.it Mentre il comandante Paolo Sandri ha ricordato come gli alpini si sentano sempre in prima linea quando c'è da fare qualcosa per l'Aquila per i più deboli. Per noi fare qualcosa di concreto per l'Aquila e per una onlus così importante è un dovere, ma è anche un piacere, perciò siamo in campo, saremo in campo con, come diceva lei, una cucina campale, un team di operatori, i ragazzi del nono, e sono certo sarà una serata da ricordare.